Siamo qui in questo co-op con un mio amico su PC quindi abbiamo diversi controller ecco aspetta ecco già palla mia sono tanti glitch qui e quindi iniziamo con la sandola ragazzi vediamo come ce la tagliamo con una palla in mezzo ecco l'antonio guaglia vai tira tira merda tira mamma mia 1 1 signori 1 1 mamma mia guarda che azione di merda mamma mia spacchiamo tutti 1 1 1 1 2 1 mezzo no c'è buco guardate che palla Eh vabbè 3 a 1, 3 a 1 Incredibile, incredibile Dai vediamo, bello è questo, è bello Vai, dai, Luis, Luis, Moutier Sì, sì che hai sbagliato, Cori, qual'era, gran passaggio ti ho fatto, non me la sbagliare, non me la sbagliare, grande passaggio, Silvestri, 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 è lui, è lui, Silvestri, sono le mezzanotte voi signori, Silvestri, non sbaglia, ah, non sbaglia, non sbaglia, guardate che vol, Silvestri con il vestibile, 3 a 3 Vai Niente da fare, niente da fare, troppi edilici, troppi erosi Uno schifo incredibile Su PC Vai, seconda partita Giocheremo col Cagliari, signore, questo è il secondo match E' quello di Cagliari Tutto pronto Eccolo Gianetti, 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 tutto solo, guardate questa azione del Cagliari che la fa tutta, lui, signore, Gianetti, ex Pescara, la maledetta di, no, no, Gianetti, Gianetti, no, ah, quel cazzo lì, cos'è, no, quello è il Melchioro Sì, ecco di Gennaro, passamela qua, ma sono tutto solo, sì, Melchiori, oddio, mamma mia che gol Mamma mia che fifa di merda proprio Vai, eccomi, Salamon, Salamon è il mio preferito, vedete, Bartosch, Bartosch Salamon, Salamon E fa tre, ne fa tre, signori, Bartosch Salamon, il giocatore più forte del mondo, Salamon, ex Pescara, signori Ecco, Bazzano, vai Bazzano, oh, il rigore Finisce qua Finisce qua Ed è l'ultima partita, signori Si va col Napoli Ed è l'ultima partita, ecco Finzione, Aya, Occio, gol, 1-0 Buonanotte 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 Bello, guarda che passaggio Il palonetto Vedete, la palla è in gol, signori Si, 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 è gol, è gol, è gol, è gol È gol Mamma mia, cioè, guarda Guarda, bam Palla la Ma dai Ma dai Non è vero Ma la mette male, è chiaro Anzi 1-1 1-1 1-1, allora Ti troverai a fare Però Questo city qua è molto pericoloso, non c'è dei buoni Ma è difficilissimo tenere qua il giocatore al tiro Beppe, dai, innalzati Oh, ti maledetto Vaffan E Grasse Merda Non si riesce ad alzare Peppe Reina La Come se sei in porta, no? Quando io mi intuffo, no? Mi serve Abbastanza per alzarmi Tiro Mamma mia, un campanile qua Campanile Non si capisce niente Peppe Reina Mette in corner Ma Cazzo Allora Ancora corner Fa ancora salvataggio Incredibile Nel tiro Ma cos'è? Non riusciamo a difendere qua Dai Ecco Questo è il fagone No Niente Niente da fare Uh, questa è brutta No Via Via No Sbaglio 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 Non c'è più concentrazione signora No Non si riesce Non si riesce a fare azione Si sbagliano Tra tre quarti Eh Indecisi Si sbagliano Eh Vabbè 3 a 1 Mamma mia No Ma cosa sbagliato? Ma siamo davanti su voi Insigne Insigne I Guarini E Deco Tra due Mi scusa Eh Tanto fa Non c'è tempo è l'ultima azione I Guarini esterno appena aperto Adesso l'arbitro è finita si fuma tutti alla nostra vai no, niente da fare finisce qua finisce qua, umiliati brutte partite ovviamente potremo ancora spero un po' meglio perché troppi glissi non si capisce più niente lasciate un mi piace fatica incredibile su FIFA Coop